I COBAS, organizzati nella Rete Nazionale per la Sicurezza e la Salute sui Posti di Lavoro e sui Territori, stanno organizzando per martedì 20 ottobre, giorno in cui inizierà il processo per il presunto disastro ambientale provocato dall'ILVA, un sit-in davanti al Tribunale di Taranto, allo stabilimento siderurgico e al quartiere Tamburi. L'ILVA, si legge in una nota, mostra in maniera esemplare come lo Stato sia sempre e solo al servizio del capitale. La gestione attuale di Stato e di Governo dell'ILVA mostra che l'intervento dello Stato borghese serve solo per socializzare le perdite in futuro nuovamente e privatizzare i profitti. Per questo il processo ILVA è una grande scadenza nazionale. L'appello dei COBAS a partecipare ai sit-in di protesta è rivolto a operai dell'ILVA, lavoratori del cimitero, luogo di massima concentrazione di inquinamento ai Tamburi, proletari e famiglie dei quartieri Tamburi e Paolo VI, costituitisi parte civile.